la valutazione finale assegnata a questo articolo di apple è di 9 voti su un totale di 10 risulta al momento avere il miglior rapporto qualità prezzo viene molto apprezzato per queste caratteristiche ottimo rapporto qualità prezzo qualità della fotocamera stile se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di apple è di 8.6 su 10 al momento è il più economico di questa selezione i punti di forza sono stile ottimo rapporto qualità prezzo puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video questo prodotto realizzato da apple ha conquistato una votazione di 7.8 su 10 punti totali questa è la nostra scelta migliore le sue peculiarità sono stile ottimo rapporto qualità prezzo se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video il voto complessivo di questo articolo di apple è di 8.4 su 10 online risulta essere il più venduto le sue principali funzionalità sono stile ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video apple ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 9.6 su un totale di 10 punti risulta essere il più scontato di questa selezione è un prodotto di riferimento che svolge pienamente il suo compito è sicuramente uno dei migliori articoli disponibili sul mercato in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato Grazie per la visione!